Dal Vangelo secondo Luca In quel tempo uno dei farisei invitò Gesù a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo. Stando dietro, presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime. Poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di profumo. Vedendo questo, il fariseo che l'aveva invitato disse tra sé Se costui fosse un profeta, saprebbe chi è e di quale genere è la donna che lo tocca. È una peccatrice. Gesù allora gli disse Simone, ho da dirti qualcosa. Ed egli rispose Di pure, maestro. Un creditore aveva due debitori. Uno gli doveva cinquecento denari, l'altro cinquanta. Non avendo essi di che restituire, condonò il debito a tutte e due. Chi di loro dunque lo amerà di più? Simone rispose Suppongo sia colui al quale ha condonato di più. Gli disse Gesù, hai giudicato bene. Evolgendosi verso la donna, disse a Simone Vedi questa donna, sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato l'acqua per i piedi. Lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio. Lei invece, da quando sono entrato, non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai unto con olio il mio capo. Lei invece mi ha cosparso i piedi di profumo. Per questo io ti dico, sono perdonati i suoi molti peccati perché ha molto amato. Invece colui al quale si perdona poco, ama poco. Poi disse a lei, i tuoi peccati sono perdonati. Allora i commenzali cominciarono a dire tra sé Chi è costui che perdona anche i peccati? Ma egli disse alla donna La tua fede ti ha salvata. Va in pace. Ha avuto un gran coraggio Simone il fariseo. Non è come certi suoi compagni che giudicano senza conoscere, che hanno bollato il profeta Galileo come impostore a priori. Vuole verificare, ascoltare, dargli una possibilità. Ma proprio durante il pranzo accade l'imprevisto. Dalla porta lasciata aperta, perché tutti potessero vedere la generosità del padrone di casa, entra una prostituta che si mette a piangere sui piedi di Gesù. Una prostituta, quindi un'impura, che sta contaminando il profeta, che perciò, sapendolo, non si dovrebbe lasciar toccare. Quindi non è un profeta. Ragionamento contorto, ma efficace. E Gesù vuole salvare entrambi. La prostituta, che sente rispetto nelle parole del Maestro, è compassione. E Simone, che se preso di petto, potrebbe chiudersi a riccio. Sarà Simone, retto nel giudizio e irreprensibile, a giudicare Simone. E Gesù gli apre una nuova prospettiva. Quella della compassione e della gratitudine. Quella dell'amore che supera ogni legge e ogni regola. Anche quelle attribuite a Dio. Grandissimo Signore, che riesce a salvare entrambi, grazie alla sua delicatezza e sensibilità. Gesù viene per salvare tutto l'uomo, tutta la persona, corpo, anima e spirito. Tutti siamo debitori verso Dio. E quindi, come Simone il fariseo, o come la prostituta, anche noi ci presentiamo davanti al Signore, che vuole entrare all'interno del nostro cuore, della nostra vita, per cambiarla. Per trasformarla, per rinnovarla, perché comprendiamo pienamente chi è l'amore. E l'amore vero è Dio stesso. Lasciamoci allora toccare dal passaggio di Cristo, ancora una volta, che passa in mezzo a noi con la luce radiosa del suo Vangelo, di questa bella notizia. e diventiamo anche noi testimoni credibili dell'unico e inesauribile amore di Dio. Buona e santa giornata a tutti. Dio vi benedica. Dio vi benedica. Grazie a tutti.